Signore e signori, buonasera, breve informazione sul volo della cadena di Silatacchi. Andiamo procedendo a una quota di 7.500 metri e circa due minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare a partire la zona. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, per cui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero entra. La nostra rotta dopo il Vesello è stata da Polonia via Firenze, Polsina, abbiamo lanciato a Roma sulla nostra destra, intervonato alla cittadinanza di Silatissi, ultimamente posta con il nostro volo di cari, setto al suolo di Silatissi e poi ci sta girando per noi. Benvenuti, come vi faccio? Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! 525,000 feet, in un round of speed is at 719 hr We have overflown, we are in just 2 minutes ago and we are around 4 per amorto flying After our take-off we have overflown Florence then the lake of Bosteina we left Rome on our right-hand side about 10 minutes ago and we are from the town of Latina and last Ponsa The weather completely outbound is improving the touching polar noise On the ground they get visibility a little windy on the ground on picture of 22 degrees centigrade above freezing time and we are at 719 hr Thank you